Tutto ok Batman? Ci stai lavorando da mezz'ora Pensi di saper fare di meglio? Non è facile come sembra Va bene, va bene Signorino Bruce, la sua cena di Natale si sta raffreddando Merda Alfred, te l'ho già detto un sacco di volte Sono un po' impegnato a salvare Gotham Cazzo Non temere Bruce Ci pensero io a finire la tua cena Cazzo No, non puoi mangiare la mia cena di Natale Bane È tipo l'intera trama del gioco Merda, devo andare Cosa? Che ne è di salvare Gotham? Non temere, mi occupo io di Joker Sono certo che non avrai problemi con Carrotopo Deadshot Ah, intendi Copper? Sei quel che è, senti un criminale vero da sconfiggere B-man, chiudo C'ho ricostrato Dio santo, come ha potuto finire un'intera cena di Natale? Non è colpa mia se Alfred è un così bravo cuoco Oh no Se solo Bruce si fosse preso un minuto del suo tempo per godere di questo cibo fantastico, non saresti sempre così di cattivo umore Ma immagino ti tratti con il rispetto che è giusto portare a un uomo onorevole come te Alfred, Alfred sei ancora vivo? Non importa Alfred se sei ancora vivo non lasciare che Bane mangi la mia c... Dessert? Alfred Gordon Tanto non la capisce nessuno questa becca